Una struttura costruita nel 2011 è fruibile dalla cittadinanza andriese dal 2014, una struttura che ha ricevuto apprezzamenti e un importante riconoscimento ad un corcosso architettonico che si è tenuta a Venezia nell'ottobre 2014 in quanto ritenuta all'avanguardia. Stiamo parlando dell'asilo comunale Aristide Gabelli che ad oggi purtroppo deve fronteggiare due importanti problematiche. La prima è quella relativa alla carenza organica che non permette un'assistenza sufficiente ai 60 bambini che frequentano la struttura e l'altro non meno rilevante riguarda la sicurezza con alcuni spazi dell'asilo che risultano inutilizzabili. Il personale al momento in stato d'agitazione attraverso le organizzazioni sindacali hanno chiesto un'immediata risposta da parte dell'amministrazione comunale. L'avvertenza è aperta da circa due anni spiega Luigi Marzano della CGL e con il comune di Andria stiamo cercando di risolvere la questione della carenza organica perché riteniamo che quella attuale è insufficiente a garantire l'assistenza ai 60 ospiti. Stiamo chiedendo un incremento delle dotazioni organiche rispettosi dei regolamenti regionali e inoltre adeguamenti alle carenze strutturali in termini di sicurezza. È una struttura nuova continua a guido manco della CISL ma ci sono diverse cose che non vanno. Ad esempio le aule sono molto distanti dai servizi igienici e i giardini non possono essere sfruttati per la presenza di spigolature e quindi degli spazi inaccessibili. Una struttura bella apparentemente ma che presenta problematiche serie che vanno risolte al più presto. Nel frattempo l'amministrazione comunale con a capo l'assessore Paolo Albo pare che abbia dato segnali positivi per quel che concerne il personale educativo. Dal 1 ottobre dovrebbero insediarsi due nuove unità che però avranno un contratto a tempo determinato e quindi la problematica potrebbe ripresentarsi a gennaio 2017.